Ciao a tutti ragazzoni, buona vista, la vostra attore della pegnogola, di spinto, saldiamo, se e poi andiamo a tutti ragazzi, allegria, io vado a tutti voi nel calcio, lo sport più bello del mondo, eccoci qua, comunque sono sempre più fiero di voi che condividete ad iscrivervi al canale, a supportare i miei contenuti, il tasto del seguito, cliccate se ne mandassi ragazzi, e per questo oggi vi dirò, non ho un po' di posto, non ho dovuto alle liberature esterne, i pronostici del giorno, ovvero Napoli, Atalanta, 1-2, 1-0 Napoli o 1-2 Atalanta, questi sono i pronostici, come marcatori vi consiglio Luca Cooper in Napoli oppure Redagli per l'Atalanta, poi abbiamo Torino, Fiorentina e qui dico, beh X2 dai, comunque la Fiorentina sta in fondo quindi 0-0 o 0-1 per la Fiorentina, 0-2 per la Fiorentina, perché vedo una partita da over, 1-1 e mezzo, non trovo un doppio collo, il Torino è una squadra molto difensivista, d'altro notte, proviamo bene una Roma, X2, 1-1, 1-3 per la Roma, vi consiglio con un marcatore, in questo caso di bala, penso che questo è un grande sport, e infine intervenenze abbiamo qui questa, uno fisso, quattro, se no per l'Inter, senza la, come un marcatore, vedo l'automatica, se potrebbe tornare a segnale, contando a segnale per essere decenni, ragazzi, mi raccomando, fate questo, questo piccolo, grande canale, perché per voi non significa niente, invece è gratuito, iscriversi, e se voi iscrivete, mi rendete felice a me, e aumentate sempre di più la comunità, quindi che siete fantastici, ragazzi, poi vedo a cercare anche un canale Telegram, vi aggiungerò io, ragazzi, questo è quanto, ci sentiamo più tardi per sapere se abbiamo vinto la schedina, noi siamo a 25 schedini consecutivi come il Natale, 25 è Natale, buona prima, buona rima, vinciamo la prossima schedina, buona la prima.